Bene, nel video di oggi andiamo a vedere come mettere in staking, come poter far fruttare i propri CRO, il token della blockchain di Kronos di Crypto.com. Alcuni siti offrono degli interessi eccezionali, ma dopo che hai visto tutte queste piattaforme, seguimi fino alla fine, perché andremo a fare delle considerazioni personali e analizzeremo ogni singolo sito e ti dirò, diciamo, la mia su cosa ne penso. Benissimo, rullo di tamburi, giriamo lo schermo e andiamo a vedere questi siti. Iniziamo subito dicendo che ti serve un wallet, altrimenti non puoi effettuare le operazioni in DeFi. In questo caso il mio wallet preferito è Kepler, che è praticamente un wallet che racchiude un po' tutto l'ecosistema di Cosmos e in questo caso c'è anche la Crypto.org Chain. La Crypto.org Chain, cominciamo col dire, che è diversa dalla Kronos Chain, ma in questo caso ci servirà questo wallet per mettere in staking i nostri CRO. Non ti faccio vedere tutta la parte di come mettere in staking sull'exchange, perché in quel caso lì penso sia molto semplice. Qui invece se vuoi fare delle operazioni tramite wallet esterno, ti scarichi questo Kepler wallet, vai sotto wallet.kepler.app e da qui potrai fare tutte le operazioni di staking. Mettere in staking significa dare i propri CRO ad un validatore. Bisogna sempre stare attenti ad un aspetto. Dare dei CRO ad un validatore solitamente è molto sicuro, ma bisogna sempre sapere che qualora il validatore effettui delle operazioni malevoli si rischia lo slashing. Lo slashing in pratica significa perdere parte oppure tutti i propri CRO. Queste naturalmente sono ipotesi remote, però magari non date i vostri CRO al primo validatore che vi capita, magari informatevi prima sui vari siti internet se sono affidabili o meno, perlomeno storicamente. La percentuale che mira ad ottenere l'ecosistema di Crypto.com, in questo caso Crypto.org, depositando i propri CRO, è pari a circa il 20%. Poi sono naturalmente dei dati variabili, quindi non è assolutamente fisso. Oltre a questo aspetto, bisogna considerare che ci sono delle commissioni variabili in funzione del validatore che si sceglie. Naturalmente più sono alte le commissioni, minore saranno i reward da staking. In ogni modo, in questo caso l'operazione è fatta molto semplice, quindi andate sotto Crypto.org, qui vi farà vedere il vostro indirizzo, acquistate dei CRO direttamente su Crypto.com, sull'exchange, quando le andrete a ritirare, a fare il withdraw, mi raccomando, selezionate in questo caso Crypto.org chain, quindi non Cronos, non vi sbagliate. Mettete questo indirizzo che vi appare qua sopra e in brevissimo tempo avrete i vostri CRO. Se non siete iscritti su Crypto.com, qui sotto in descrizione vi lascio il referral link con il quale vi potete registrare ed avere un bonus se acquistate CRO e li mettete in questo caso in staking direttamente sulla piattaforma, sull'exchange. Sia mettendolo sull'exchange, che mettendolo eventualmente direttamente sui validatori, sono entrambe delle operazioni valide e relativamente sicure. Io personalmente preferisco metterlo qui sui validatori perché voglio sempre essere proprietario dei miei CRO, non voglio essere insomma diciamo dipendente da un exchange. In questo caso però devi sapere che quando tu andrai a mettere in staking e vorrai effettuare l'unbond, ossia di entrare in possesso dei tuoi token, ci vorranno 21 giorni. Quindi passano 21 giorni da quando voi fate l'unstake a quando effettivamente ti arriveranno sul tuo wallet. Si è messo al secondo sito, Osmosis, probabilmente lo conoscerai, è praticamente l'AMM per eccellenza per tutto l'ecosistema di Atom, di Cosmos, nel quale fa parte anche la blockchain di CRO. In questo caso si può mettere in staking, in farming, una coppia di criptovalute, quindi 50% uno, 50% l'altro, e si andranno a generare degli APR. Questi APR sono interessanti, per esempio qui c'è un bel 58,6% sulla coppia CRO-Osmo, oppure un 37,30% sulla coppia Atom-CRO. Qui si possono appunto depositare queste due coppie di criptovalute per un controvalore pari al 50%, l'uno e il 50% l'altro. I reward saranno dati in Osmo, e questi reward possono essere venduti, possono essere, si possono acquistare altri Atom o CRO, come nel caso di questo, oppure altri CRO-Osmo, ed andare ad incrementare le posizioni. In questo caso devi sapere che ti stai chiaramente esponendo a non solo ACRO, ma anche un'altra criptovaluta, oppure nel caso di Osmo, anche all'andamento di Osmo stesso. Qui semplicemente cliccando sulla pool dove vuoi assegnare la liquidità, potrai scegliere se avere un solo giorno di unbonding, ossia il tempo necessario a rientrare in possesso di D2 token, una volta che fa l'unstake, fino ad arrivare a un 14% di giorni necessari per questo unstake, naturalmente avrai un bonus, quindi un APR più elevato rispetto al primo caso. Per effettuare le operazioni qua, non si possono effettuare direttamente, ma bisogna andare prima sotto asset, bisogna effettuare il deposito, quindi sempre collegando Kepler Wallet, bisogna depositare, quindi portare da Kepler direttamente su il sito di Osmosis, poi potrai effettuare le operazioni. Quando dovrai entrare in possesso dei tuoi token, dovrai fare il withdraw e riportarli sul tuo Kepler Wallet. Andiamo a vedere quest'altro sito, WWS Finance, sicuramente lo conoscerai anche perché questa qui è il DEX sponsorizzato, diciamo così, da Crypto.com stesso. Su WWS è possibile, come nel caso di Osmosis, mettere liquidità ad una coppia di criptovalute, CRO Rapid BTC, CRO USDC, insomma ce ne sono tantissime, quindi sia CRO con Stable Coin che CRO con altre cripto, ci sono anche criptovalute estranei diciamo al CRO. I reward da questo DEX ti verranno pagati in token WWS, che è il token proprietario della piattaforma. Questo token WWS, come nel caso abbiamo visto precedente di Osmosis, possono essere venduti, possono essere scambiati, quindi possono essere tenuti, insomma ognuno fa quello che meglio crede. Devi sapere che se te li tieni naturalmente sarai esposto all'andamento del token WWS, nello stesso tempo li puoi mettere in staking questi WWS e generare il TUSD, quindi una Stable Coin, ma anche in questo caso disponi comunque sia al WWS. Questi WWS se li metti in staking avrai una percentuale aggiuntiva del 55.18%, se il token WWS scende, questa percentuale sicuramente non ti coprirà la discesa di questo token, quindi anche qui presta molta attenzione. Andiamo alla terza piattaforma, in questa fase abbiamo Cronaswap, Cronaswap esattamente come WWS Finance, si può fornire liquidità, se andiamo su Farm V2 possiamo vedere insomma le diverse coppie che ci sono, quindi esattamente come abbiamo visto su WWS, in questo caso il token principale è il Crona, quindi anche qui le reward verranno pagati in Crona. La cosa simpatica che ho visto, a differenza di quello di prima, è che qui c'è anche la possibilità di avere un boost, ossia una percentuale di APR aggiuntiva, si possono acquistare dei Crona e metterli in blocco per un certo periodo di tempo, fino a un massimo di 4 anni, più Crona si avranno, più tempo si metteranno bloccati, più si avrà una percentuale aggiuntiva di boost. Anche in questo caso ti stai esponendo al token Crona. Una volta che depositi, ti verranno dati questi W e Crona, quindi è una sorta di, se vogliamo paragonare una sorta di platypus finance su terra, è leggermente diverso, ma orientativamente insomma è questo. Qui c'è anche la possibilità di fare una simulazione, quindi se sei interessato a questo aspetto, prova a fare le simulazioni, insomma e vedi orientativamente quanto ti può entrare. Un'altra parte importante, qui invece carina più che altro, è la parte dello stake, nel quale è possibile mettere in stake i token Crona, quindi sempre il token proprietario della piattaforma, e generare dei token diversi dal Crona, in questo caso per esempio depositando Crona si otterranno dei Rapid CRO, oppure altre criptovalute come i Darki, i Banki, i Croissant, insomma ce ne sono diverse. Sotto la parte GameFi invece ci sono dei simpatici giochini che naturalmente ti ruberanno un sacco di soldi se partecipi con i quali puoi tentare la fortuna. Passiamo adesso alla terza piattaforma, in questo caso è Tectonic, Tectonic è una piattaforma di land e di borrower, nel quale è possibile prestare e ricevere in prestito criptovaluta, quindi se ad esempio, non so, ti vuoi tenere una criptovaluta ma non la vuoi vendere, ma ti serve liquidità o un'altra criptovaluta per avere degli interessi aggiuntivi, per farci quello che ti vale, insomma se vuoi vendere, ci puoi fare quello naturalmente che ritieni opportuno, lo puoi fare su questo sito. Devi naturalmente sapere che quando tu prendessi in prestito una criptovaluta depositando un'altra a collaterale, c'è sempre il rischio di liquidazione. Se vieni liquidato, ti resta solo esclusivamente l'importo che hai preso, mentre invece tutto quello che tu hai messo a collaterale lo perdi. Quindi quando fai queste operazioni stai sempre attento. A me lo devo vedere, questa piattaforma fra l'APY della supply e del borrower, non mi fa assolutamente gridare al miracolo, però sicuramente è una piattaforma da tenere in considerazione, in base alle vostre strategie, e non può essere ignorata. I reward che verranno generati da questa piattaforma ti verranno pagati in token Tonic, il token della piattaforma. Questo token Tonic lo puoi mettere in stake, a sua volta avere degli interessi aggiuntivi, oppure come nel caso precedente, venderlo, comprare l'altra criptovaluta, insomma fare quello che ti pare anche in questo caso. L'APY mettendoli in staking è pari al 241%. Questo invece è Bifi Finance, che è praticamente un autocompounder, esattamente come Autopharm. C'è anche qui la possibilità di selezionare la Kronos Chain. Selezionando Kronos Chain è possibile effettuare le operazioni di autocompound in maniera automatica. Quindi quei token che ad esempio prendi da WWS o da Kronaswap mettendo liquidità alla pull, anziché metterli in stake direttamente su questi due siti, li puoi mettere in stake qua e non hai necessità di fare il claim, quindi avere i token WWS oppure i token Krona, non hai necessità di esporti a questi token perché lo fa direttamente alla piattaforma per te, ossia ti vende questi token, ti acquista la stessa coppia di criptovalute che hai messo in farm e quindi ti andrà a aggiornare un interesse composto. Io Bifi Finance lo uso da tantissimo tempo, come ci sono sempre trovato bene, naturalmente utilizzando Bifi Finance ti stai esponendo ad un'altra piattaforma che aumenta il rischio rispetto a utilizzare quella stessa piattaforma. Però sicuramente è una comodità in più, oltre che un gran risparmio probabilmente di fee e anziché fare tutti i giorni questo claim te lo fa direttamente questo sito. Se ti piace aumentare il rischio, in questo caso c'è V3S Finance. V3S Finance è praticamente un protocollo che ha il suo token V3S, è una criptovaluta algoritmica che mantiene il suo PEG tramite signoraggio. In pratica ha il suo token che è questo V3S. Questo V3S replica, o meglio dovrebbe replicare, l'andamento del token VVS, quello che abbiamo visto in precedenza, quindi sul sito VVS Finance. Ma come vediamo e come stanno in questo momento, praticamente un V3S vale 14 VVS, quindi mi sembra che non siano assolutamente pegati, insomma, nel discorso c'è poca differenza, in questo caso la differenza è molto ampia. Ounque sia per fartela breve, utilizza lo stesso meccanismo di Tomb Finance su Phantom, ho fatto anche un video, lo lascio qua sopra, tramite questi altri due token, il VShare e il VBond, dovrebbe garantire questo PEG, ma come detto non è sempre così. Ad ogni modo vediamo un attimino, facciamo un giretto su questo sito, se andiamo sotto Pacific, depositando questa coppia di criptovalute, V3S e VVS, si ha un APR di più del 2000%, quindi sono insomma naturalmente degli interessi importanti, a mio modo di vedere non sostenibili, così un po' come Tomb Finance, abbiamo visto Tomb Finance perdere anche un pochettino il PEG rispetto a FTM negli ultimi tempi, però per esempio è possibile anche mettere in stake solo una criptovaluta, non so in questo caso USDT, puoi mettere in stake USDT al 22%, e ottenere dei V3S e questi V3S volendoli puoi vendere. Ci sono insomma diverse strategie che puoi fare su questa piattaforma, che quando se uno vuole insomma avere un vantaggio dal token bond, e quindi allora il prezzo del token V3S sia al di sotto del VVS, del token VVS, puoi vendere questi V bond e convertirli in V3S e avere un premium. Sotto la voce Atlantic è possibile mettere in stake i VShare e avere un APR dell'867%, quindi sicuramente questi dati fanno gola, poi vabbè ti dirò comunque sia alla fine quello che penso di queste piattaforme, perché richiedono sempre la massima attenzione. Passiamo alla piattaforma successiva, questa qui si chiama Dark Crypto, è sempre una criptovaluta algoritmica, in questo caso ce ne sono tre, come nel caso precedente, ossia il Dark, lo Sky e Light, lo Sky e Light nient'altro sono che gli Share e il bond, come abbiamo visto prima. Questo Dark, la differenza sostanziale è che questo Dark, anziché seguire il VVS token, segue l'andamento del CRO, quindi probabilmente più interessante rispetto al VVS, sicuramente o meglio in teoria meno volatile, questo non significa che mantenga assolutamente il PEG, quello è tutto un altro discorso, però insomma se così fosse il CRO è meno volatile sicuramente rispetto al VVS. In questo caso quindi depositando Dark, quindi questo token peggato al CRO e il CRO, si ha un APR del 318%, quindi sicuramente un po' inferiore rispetto a quello che abbiamo visto in precedenza, nello stesso tempo però se i token rimangono peggati, non si ha l'impermanente loss, così come VVS Finance, ma quello già è partito male, insomma abbiamo visto che sta a 14 volte il prezzo del VVS, di quello che dovrebbe essere, in questo caso lo sta mantenendo, non so per quanto tempo e se effettivamente lo mantenga. Cioè da dire che ci sono state diverse piattaforme che hanno effettuato queste operazioni, soprattutto su Stablecoin in passato, devo dire la maggior parte non è che sia finita proprio bene, bene, bene. Se andiamo sotto la voce Earn e sotto la voce Bank, è possibile in questo caso mettere, come nei casi precedenti, una coppia di criptovalute in Farm, l'aspetto carino c'è questa D3 USD Pool, se clicchiamo su Add Liquidity ci apre un altro sito, in questo caso Darkness Finance, verso il quale è possibile depositare una, due o tre stablecoin ed ottenere probabilmente un token da mettere in stake là dentro e il quale ci dà un interesse quindi sulle criptovalute stabili legate al dollaro pari al 65%. Se ad esempio non so, deposito 500 USDT, mi dirà che c'è un price impact dello 0.11%, chiamiamola una fee. Questo è variabile, ad esempio non so, se in questo caso metto USDC mi darà un 0.07% quindi di meno e se invece le metto tutte e tre alla stessa percentuale il price impact sarà 0. Questo perché questa pool vuole mantenere un 33,3% di componente di tutte e tre di queste stablecoin, quindi ti dà un malus in più se tu depositi magari la stablecoin che in quel momento ce n'è di più. Se invece depositi al 33% luna, ad un terzo luna, in questo caso non pagherai il price impact e l'operazione è completamente gratuita. Una volta preso in quel token, insomma aggiunta liquidità, puoi venire qua, metterlo, depositarlo e genererai interessi in token NESS. Questo token NESS puoi fare direttamente il claim e quindi puoi venderlo e farci quello che ti pare. Sotto la voce Dark Earn, esattamente quello che abbiamo visto anche prima, si può mettere in stake il token Dark e ottenere un'altra criptovaluta. Se andiamo su Dark Auto, questa qui invece è una sorta di Bifi Finance incluso direttamente dentro questo sito con il quale si possono mettere in stake sia i token direttamente qua dentro di questa piattaforma che eventualmente di altre piattaforme, come esempio vediamo WWS e si otterrà un bonus aggiuntivo, quindi rispetto magari alla media. Qui però devi sapere che ti sta esponendo su un sito nuovo con una serie di problematiche, come Audit c'è questo PEC Shield che sinceramente neanche conosco, c'è un minimo di Audit ma non ha in questo momento un Audit di Certic che non è sicuramente sinonimo di garanzia ma di una maggior garanzia. Anche qui fai le tue opportune ricerche. Se andiamo sotto Darkness, sotto Darkness è quello che abbiamo visto in precedenza, ma ha anche la sua Stable Coin legata al dollaro, quindi c'è il DUSD che sarebbe questa Stable Coin legata al dollaro e il NES che è quello che abbiamo visto che ci veniva dato come reward in precedenza che sarebbe lo share. In questo caso però il DUSD è un pochino diverso rispetto a quello lì che abbiamo visto prima rispetto al token pegato al CRO perché bisogna fare il minting di questo token, si può mintare con una Stable Coin, nello stesso tempo bisogna aggiungere altre criptovalute come ad esempio il Dark e anche il NES, quindi la percentuale sarà in Dark e la percentuale in NES. Tutte queste criptovalute insieme formano questo DUSD, quindi è una criptovaluta che ha dietro un collaterale. Però mi ricorda un pochino, diciamo anzi decisamente, quello che è successo su Iron Finance. Su Iron Finance ho fatto un video, ti lascio anche questo video qui sopra, che poi alla fine c'è stato purtroppo un problema di Bank Run e quindi quando tutti sono andati a ritirare i propri token, il token è crollato, si è depeggato, quindi non ha mantenuto il peg e vabbè. E quello insomma è quello che è successo, quindi state sempre attenti insomma anche quando utilizzate queste piattaforme. Vediamo adesso all'ultima piattaforma e qui ragazzi miei siamo davvero al top, al top per modo di dire naturalmente ironico, si chiama Crow Notes, lo chiamerei anche Ponzi Notes, perché è proprio un bellissimo schema Ponzi, con il quale si possono acquistare questi nodi, questi nodi si acquistano per circa 20 CRN token, e ogni nodo ti darà una reward giornaliera di 0.5 CRN. Poi acquistare un massimo di 100 nodi, e quindi generare i reward, quindi più ne avrai più reward genererai. Se andiamo a vedere il token Crow Notes in questo momento, fammi vedere un attimino qua giù, ok l'andamento del token non è di certo dei migliori, ha avuto uno spike di prezzo fino ad arrivare ai 50 dollari, allo stato attuale si trova a 9.8 dollari, vabbè poco male nel senso che sono un pochino scese tutte le criptovalute, ma adesso non trovo più il token perché è stato tolto da CoinMarketCap, ma c'è ad esempio RingFinance, RingFinance è stata la prima fondamentalmente a creare questo genere di modalità, e RingFinance attualmente non esiste più, il token dopo uno spike simile a un certo punto era arrivato naturalmente a toccare lo 0 assoluto, e quindi questo che non è un consiglio finanziario, ma è una mia certezza assoluta, che poi magari ecco, lasciamo sempre lo 0,1% di margine di errore, ma a mio modo di vedere questo che è un Ponzi, che naturalmente se tu metti i soldi qui e sei tra i primi, probabilmente potrai anche guadagnare qualche cosa, se sei fra gli ultimi invece perderai diversi soldini, se non appunto tutti i soldi. Ora facciamo adesso un po' un resoconto di quello che abbiamo visto, le piattaforme Dex, come ad esempio V3S oppure Cronaswap, sono relativamente e tra virgolette sicure, benché possono sempre essere soggetti ad hacker, piuttosto che azioni malevole da parte del team, qui naturalmente di sicuro non c'è assolutamente nulla. Sono comunque sia le piattaforme normali da staking, probabilmente il token, benché insomma se le inventeranno in tutti i colori, il token mate della piattaforma, sono sempre destinati a scendere di prezzo, ma questa è solo un'opinione personale. Per quanto riguarda invece lo staking sulla crypto.org chain, tramite validadore, è sicuramente quella l'opzione più sicura, se vogliamo dire, forse se vogliamo anche addirittura più sicura, rispetto allo staking dei CRO sul sito di crypto.com, oltre che sicuramente la scelta migliore, per garantire una maggior decentralizzazione, c'è sempre il rischio di slashing, quindi anche in questo caso la sicurezza non è mai eccessiva, e non è mai troppa. Per quanto riguarda Tectonic, nulla che faccia che dare al miracolo, passando poi alle altre due piattaforme, quindi quelle con le monete algoritmiche, con le criptovalute algoritmiche, che replicano il WWS Finance Token e il CRO, in questo caso sono naturalmente da valutare, bisogna dargli diverso tempo, c'è un EPY mostruoso, abbiamo dovuto vedere che non reggeranno tanto, come hanno chiuso anche altri siti di queste monete algoritmiche, perché come stiamo vedendo TUMB Finance, che è già da diverso tempo che sta in piedi, sta ancora relativamente benino, perché abbiamo visto in questi giorni il Token perdere il PEG, spesse volte con l'FTM. Per la mia esperienza ti posso dire che difficilmente queste piattaforme, quando perdono il PEG con il Token madre, poi questo viene recuperato, finché stanno sopra tutto ok, ma quando stanno sotto iniziano i veri problemi. Quindi quelle due sono considerate ad altissimo rischio, sono piattaforme ad altissimo rischio, quindi da valutare per chi ama il gambling, quindi ancora di più rispetto alle piattaforme precedenti, devi sapere che mettendo i soldi qua dentro, potresti non rivederli più. Poi te lo lasciando in ultimo Ponzi, che vabbè, insomma, di quello, di che cosa vogliamo parlare. Se questo video ti è piaciuto, un bel like, iscriviti al canale se non sei registrato. Ciao dal Marchese del Cripto, buona giornata.